la barzelletta di ceppo è sera siamo in casa c'è una donna nel letto si spalanca la porta del bagno esce un uomo tutto nudo si avvicina apre le coperte si infila nel letto lei lo guarda e fa hai bevuto vero e lui ubriaco che fa sì perché se vede si abiti al piano da sopra di dimensione suono roma